Il weekend della valigia dell'attore alla Maddalena comincia nel segno di Giuseppe Battiston volto amato e versatile del nostro cinema ieri sera in arena alla Fortezza ai Colmi con Hotel Gagarin per lui prima volta alla Maddalena Un paradiso mentre vi sto parlando sto guardando il mare, le isole è veramente un posto magico io conoscevo a livello di festival conoscevo Tavolara è un altro angolo meraviglioso di Sardegna vabbè, ma sto dicendo delle banalità perché la Sardegna è tutta bella ho meravigliosi ricordi anche di Cagliari nel nome di Gian Maria Volontè con il quale ha condiviso un regista in medio greco questo è l'unico segno di continuità però perché è talmente gigantesca la figura di Volontè che devo dire che proprio sono molto contento che ci sia qualcosa intitolato e dedicato a lui che è una figura che si affronta sempre con discrezione per quanto è stata grande Stamattina incontro con il pubblico prima di tornare questa sera in arena ai Colmi dove sotto l'attesa luna rossa sarà protagonista drammatico questa volta di Dopo la guerra di Anna Rita Zambrano alla regista verrà tra l'altro consegnato fisicamente anche il premio già vinto del Cagliari Film Festival